Come mai ti chiami così, Giuseppe? Tuo nonno. Ah, questa è una cosa classica, nonno paterno immagino. Ok, il 90% dei casi, noi al sud, io pure, Vincenzo come mio nonno. Quanti così? Ah, pure voi Vincenzo come mio nonno. Incredibile, sono un sacco di... In alcune famiglie ci tengono tantissimo. Pensa che un mio amico ha sua sorella maggiore, si chiama Salvatore, perché... Si edagia come il nonno paterno, la prima creatura che nasce. Grazie a tutti.